False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. In questo modo da due anni un pluripregiudicato e la compagna spacciatrice percepivano un sussidio di 1000 euro al mese. Gli uomini del comando provinciale di Pescara della Guardia di Finanza hanno portato alla luce la pratica fraudolenta denunciando un trentenne pescarese in debito per settore della somma. Tutto è iniziato nel febbreo 2020 quando, come risulta dalle indagini, all'atto di richiesta del beneficio, l'uomo, già schedato per altri reati, ha omesso di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche la compagna ai domiciliari per spaccio di droga ed ha dunque intascato un indennizzo senza avere i requisiti previsti dalla legge. Oltre alla denuncia per illecita percezione del reddito di cittadinanza e per false dichiarazioni, i finanzieri hanno richiesto alla Procura della Repubblica di Pescara il sequestro preventivo dei fondi statali costituenti profitto del reato. Contestualmente è stato bloccato l'accredito delle somme ricevute indebitamente e che dovranno rientrare nelle casse dello Stato. La preventiva azione informativa sviluppata grazie alle nostre antenne sul territorio, spiega il comandante provinciale di Pescara della Guardia di Finanza e il colonnello Antonio Caputo, ha consentito di individuare soggetti sui quali esperire ulteriori accertamenti per disinnescare il circolo vizioso di percezione indebita di sussidi economici importanti che non possono finire nelle mani di chi li usurpa. Questa indagine segue un filone investigativo che già nei mesi scorsi ci ha permesso di portare a termine l'operazione Cash Point, sempre in tema di reddito di cittadinanza, ed è l'esempio di come la Guardia di Finanza di Pescara sia presente e vigile per evitare lo sperpero di denaro pubblico. Del resto il reddito di cittadinanza è una misura importante di sostegno al reddito che deve essere erogata per contrastare la povertà, per garantire l'inclusione sociale, ma deve essere garantita soltanto a chi ne ha veramente necessità.